Con il 68,35% delle preferenze, Simone Dell'Ai da oggi guida il Comune di Schiavon. Un risultato nel segno della continuità, visto che per anni è stato al fianco della compianta sindaca Mirella Cogo. Sicuramente i voti che abbiamo ricevuto, i consensi da parte del Paese, hanno premiato i 13 anni di amministrazione Cogo, al quale ho fatto parte ad ogni giunta, dal 2009 ad oggi. È stata premiata probabilmente anche la nuova squadra, tutti giovani, con voglia di fare, entusiasmo e una buona esperienza, diciamo, dal punto di vista sia privato che lavorativo. Lei se l'aspettava? No, non me l'aspettavo. Il presidente, alle ore 17 del 13 giugno 2022, proclama eletto la carica di sindaco del Comune di Schiavon, il signor Dell'Ai Simone. Un legame anche a livello proprio spirituale con la sindaca, la compianta sindaca Mirella Cogo. Sì, eravamo, oltre che il rapporto pubblico, diciamo, come amministratori pubblici, eravamo anche amici. C'è emozione un po'. C'è tanta emozione, sì, purtroppo è venuto a mancare un momento un po' inaspettato. Ma adesso si va avanti. Si deve andare avanti, anche nel rispetto suo, per quello che, anche per la grossa eredità che ci ha lasciato, che mi ha lasciato. E soprattutto questo punteggio mi carica ancora più di responsabilità da portare avanti il lavoro iniziato. C'è un po' inaspettato. Grazie. 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 Grazie.